Sono stati telefoni cellulari ad incastrare quella che per i carabinieri del Rosso e per i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Bari era una cellula terroristica dell'ISIS pronta a colpire. Nei telefoni dei due afghani del Pakistano arrestati tra Bari e Milano c'erano infatti le foto di quelli che per gli investigatori erano i possibili obiettivi del gruppo. Il porto e l'aeroporto di Bari, un centro commerciale, ma anche il Colosseo e il Circo Massimo, oltre a foto scattate tra l'Inghilterra, il Belgio e la Francia. Sempre nei telefonini c'erano poi queste altre foto. Uno degli arrestati con un fucile d'assalto all'interno di quello che sembra un supermercato. La prova, secondo i carabinieri, che il gruppo aveva disponibilità di armi. Tra il materiale sequestrato ci sono anche un selfie che immortala uno di loro con il sindaco di Bari, Antonio De Caro, durante una manifestazione di solidarietà per i profughi nel 2015. La foto di un importante capo talebano, ucciso in un raid americano il 13 ottobre 2015. E infine una serie di canti che inneggiano al martirio. Uno degli arrestati viveva nel centro per richiedenti asilo di Bari e era stato fermato nel dicembre scorso mentre girava immagini all'esterno dell'ipercop del quartiere Santa Caterina e da lì era partita l'indagine. Un altro era residente a Foggia ed è stato bloccato mentre ritirava il permesso di soggiorno e stava per partire per la Francia. Il terzo, un pakistano, è stato invece arrestato a Milano. All'appello mancano altre due persone, si trovano probabilmente in Afghanistan, ma per loro l'accusa è solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il pubblico ministero, Roberto Rossi, ha rivelato che durante l'indagine gli investigatori non sono riusciti a violare l'iPhone di uno degli indagati. Si ripropone dunque il tema, già venuto fuori con gran clamore negli Stati Uniti dopo la strage di San Bernardino, ovvero l'impossibilità di avere i codici di accesso ai telefonini anche nel caso di indagini antiterrorismo.